Ecco la bestia sfida lanciata oggi la giornata è buona non tenere almeno pochissima dovrebbe essere da tutti Nel modo vabbè 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 Grazie a tutti. Aspetta, la neve è solo qui sopra, sullo sfondo del Monte Rosa. Fa un freddo cane qui, c'è a Rietta e non posso rimanere troppo. Non mi resta che scendere. Non mi resta che scendere. Non mi resta che scendere.